un nuovo esercizio di mister Gabri lo lanciamo su youtube esatto, su youtube così lo copiano poi tutti quanti fanno le copreste vai Mata è un grande, guarda Mata, guarda il capitano guarda il capitano come va su, vai Mata 1, 2, 3, 4 e 5 Mata, 35 gol, via Guido, Guido a Guido, dove sta Guido? vieni a Guido che dice che non dobbiamo fare amichevoli faccio vedere io vai Guido, vai 1, 2, 3, 4, 5 questo anche Zeman ce lo copre vai, alziamoci Mata, sei il primo, via quel Michelino, vai via il mister Gabri man mano sta aumentando il carico di lavoro, il ritmo vai aumentiamo, aumentiamo grande Zio Gabri grande Zio Gabri